Il ricordo di uno storico personaggio del territorio attraverso una manifestazione sportiva. La Scherma Ostia ha organizzato il Memorial Luigi Muzzarelli di Spada. Perché questo Memorial e come lo avete organizzato? Questo Memorial è per ricordare un caro amico scomparso da poco tempo, con cui avevo un buonissimo rapporto. Allora gli ho voluto intestare questa gara, perché lui l'ultima volta che ci siamo incontrati, pochi giorni prima di morire, mi aveva detto, allora Presidente, quando riorganizziamo una gara, perché noi avevamo organizzato per cinque anni nel suo stabilimento lo Sporting Beach, il Trofeo Challenge Sporting Beach. Allora, ricordandomi queste parole, ho pensato di intitolare questo Memorial che abbiamo organizzato in concomitanza con la prima prova di qualificazione regionale di spada femminile e maschile open. Qual è il livello tecnico di questo Memorial? Assolutamente interessante perché è medio-alto e riguarda le prime categorie che hanno la possibilità di avvicinarsi all'agonismo in forma ufficiale. Per quello che si vede sulle pedane sono tutti ragazzi molto bravi, molto ben preparati, con un livello tecnico-schermistico non indifferente per l'età che hanno. Una gara che è andata benissimo? Sì, all'inizio no, però dopo mi sono svegliata e ho iniziato a tirare. Ti aspettavi di vincere? No, perché non mi andava molto di farla la gara oggi, però alla fine, tutto sommato, ho tirato. Cos'è che ti è mancato per arrivare sul podio più alto? Ma secondo me un po' più di grinta. Era la gara difficile? Secondo me non era tanto difficile, anzi, potevo fare anche di più. Da quanto tempo fai schermato? Da sei anni. Questo credo sia il bello dello sport, soprattutto dell'attività golistica. C'è una manifestazione sportiva, è rivolta soprattutto ai giovani ed è un discorso legato alla memoria. Lo sport guarda il futuro, ma ricorda anche il passato. E questo credo che sia un bel messaggio per tutti quanti. Un evento in memoria di una persona che amava il nostro quartiere, ma anche la scherma. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabir.